Sapete tutti che le scuole pubbliche sono sempre più prive di fondi e quindi è un pochino abbandonata. Allora noi non ci vogliamo arrendere, lo possiamo fare grazie a queste forze giovani che ci stanno sostenendo e ci stanno aiutando. Quindi io non posso che ringraziarli di cuore, soprattutto a nome dei miei ragazzi, dei ragazzi e dei bambini che frequentano questa scuola. Ma noi abbiamo intenzione nella riqualificazione di questa bellissima scuola di attivare anche il modello integrato, il progetto 06. Quindi non accoglieremo i bambini da 3 a 6 anni e poi ovviamente della scuola primaria che sono già presenti in questa sede, ma accoglieremo anche i bambini da 3 mesi a 2 anni e mezzo. In buona sostanza ci siamo concentrati sull'organizzazione di una scena di fundraising, il cui ricavato proprio oggi abbiamo consegnato alla scuola e alla preside dell'istituto, dottoressa Serafina D'Angelo, attraverso questa iniziativa sarà possibile la riqualificazione della pavimentazione di due aune della scuola Sant'Andrea. Così come fatto già a Natale con il progetto degli addobbi luminosi, dove il comune non ha avuto le risorse per far fronte a questo tipo di istanza da parte dei commercianti, ce ne siamo fatti carico noi come giovani imprenditori. La stessa cosa avviene oggi con la scuola Sant'Andrea e con la preside, la dottoressa Serafina D'Angelo, che ci ha fatto pervenire un'istanza in merito a degli interventi urgenti presso la scuola, così come l'acquisto di alcune suppellettili.